Negli anni 30 del 1800 un giovane biologo salpa su una nave, un brigantino inglese che deve attraversare il mondo, fare il giro del mondo a scopo scientifico. Arrivato sulle coste del Madagascar, questo biologo, la sua curiosità viene attratta da questo fiore, un'orchidea che ha una particolarità, lo sperone nettarifero, che è la parte dove il fiore tiene il nettare, è particolarmente allungato, 23 centimetri. Tornato in patria pubblica un diario in cui scrive che secondo lui su quest'isola ci deve essere una farfalla che abbia una spirotromba, cioè la bocca della farfalla che usa per prendere il nettare dai fiori, di adeguata lunghezza. Questo all'epoca era un azzardo, nessuno aveva mai studiato una farfalla che avesse la spirotromba più lunga del proprio corpo. 40 anni dopo, una seconda spedizione trova questa farfalla. Probabilmente alcuni di voi l'avranno intuito, questo giovane biologo, altri non era, che un 25enne Charles Darwin, non ho trovato una foto di lui 25enne, credo che qui ne abbia un'ottantina di anni, Darwin all'epoca aveva fatto un azzardo, aveva fatto una scommessa. Perché vi parlo di questa storia? Vi parlo di questa storia perché parla di due argomenti che io voglio trattare stasera. Uno è come noi creiamo senso dalla realtà e l'altro è come funzionano e a cosa servono le storie. Questi due argomenti per la psicologia e la semiotica contemporanea sono in realtà strettamente legati, se non addirittura la stessa identica cosa. Andiamo a vedere la storia di Darwin più da vicino. Darwin si è messo di fronte alla complessità, che era parola d'ordine di oggi, del mondo naturale, nello specifico delle coste del Madagascar e la sua mente ha selezionato alcuni tratti distintivi in base alla sua curiosità e li ha ordinati secondo un pensiero, mescolandoli anche ovviamente con le sue conoscenze precedenti, in un pensiero che ha la forma e la struttura identica a quello di una storia. Questa narrazione ha prodotto per lui del senso. Lo scopo finale di tutto questo lavoro è la predittività. Darwin è morto senza aver visto quella farfalla, ma sapendo che una farfalla così ci doveva essere. A questo servono in primis le storie, sono uno strumento del nostro cervello per creare significato. Il nostro cervello prende la realtà che è complessa e la trasforma in qualcosa di complicato, che può essere quindi spiegato. Cioè gli possono essere tolte le pieghe, può essere quindi spiegato. Ma se voi ci pensate, le storie non sono solo questo per noi, anzi più intuitivamente, le storie per noi sono uno strumento per condividere significato. Ci sembra una banalità, nel senso che noi lo facciamo con grande naturalezza, ma noi siamo gli unici animali in grado di farlo. Noi condividiamo significato complesso, che il nostro cervello ci prepara in questi pacchetti di significato, e li possiamo tramandare ad altri della nostra specie. Siamo gli unici animali a poterlo fare. Questa unicità, a poter tramandare senso complesso. Questa unicità ha fatto dire ad uno storico contemporaneo, Yuval Noah Harari, che le storie sono anche un'altra cosa. Sono cioè il principale strumento evoluzionistico nell'arsenale dell'umanità. Sono quella cosa che ci ha messi su quella che lui chiama la corsia di sorpasso dell'evoluzione, che ci ha fatti diventare la specie predominante sul pianeta, superando tutte le altre. In che senso uno strumento evoluzionistico? Vi faccio un esempio pratico. Se voi siete una scimmia, state in un gruppo di scimmie composto di 100, 150, massimo 500 elementi. Per un motivo molto semplice, voi per fidarvi degli altri, lì dovete conoscere uno per uno. Noi non funzioniamo così. Gli uomini vivono in gruppi che sono infinitamente più grandi e di cui non conoscono la maggior parte delle persone che ne fanno parte. I gruppi più grandi risolvono problemi più complessi. In che senso le storie tengono uniti i gruppi? Vi faccio di nuovo un esempio pratico. Se voi siete uno juventino spiegatato e andate al mare e il tizio di fianco a voi stende un asciugamano su cui c'è un grosso logo della Juve, in un istante, senza scambiare una parola, voi sapete che con quella persona condividete uno storico, una storia di gioie e di dolori, ultimamente poi particolarmente, che fa sì che con quella persona ci sia una base per la collaborazione e la fiducia reciproca. Se ci pensate, il mondo simbolico, il mondo delle storie umano è vastissimo, non finisce allo stadio. Ogni ambito della nostra vita ha una storia che lo regola. Le religioni sono storie, la nazionalità. Se domani l'Italia sprofondasse nel Mediterraneo, noi resteremmo gli italiani. Il denaro, se ci pensate, è una storia che ha deciso che un foglio con su scritto 5 euro valga 5 euro. Una narrazione condivisa che fa sì che se io vado da uno che vende panini e gli do 5 euro, lui mi dà un panino in cambio sapendo che all'interno di questa narrazione, lui con questo foglietto che è un simbolo, a cui questa narrazione attribuisce valore, ci può pagare altri beni o servizi. Non finisce qui. Le storie sono anche alla base del nostro processo decisionale. Leggete questa frase che è di Daniel Kahneman, già citato oggi. Nessuno ha mai preso una decisione basandosi sui numeri. Hanno tutti bisogno di una storia. Daniel Kahneman è uno psicologo che ha preso il premio Nobel per l'economia proprio elaborando questa sua teoria, che le persone non scelgano in base a una valutazione dei costi e benefici reali, ma piuttosto in base ad una narrazione che si sono fatti del mondo. E qui arriviamo al vero argomento del mio TED di stasera, perché a volte le storie ci raccontano un mondo che non è proprio adeguato a come il mondo realmente è. E per raccontarvi, per parlarvi di questa cosa, vi voglio raccontare ovviamente una storia. È una storia vera, è una storia drammatica, ed è una storia che io non riesco mai a raccontare senza ridere, quindi spero che nessuno se la prenda. Questa è la storia del nostro Edgar Welch. Edgar Welch nel 2016 entra in questa pizzeria di Washington D.C., il Comet Pizza Ping-Pong, dove si mangia la pizza e si gioca a ping-pong, armato di un fucile a ripetizione, un fucile a pompa e due pistole. Comincia a sparare in aria gridando che vuole vedere dov'è la cantina dove tengono segregati i bambini. Dopo un'ora e mezza di terrore, esce da quella pizzeria, fortunatamente senza aver sparato a nessuno, profondamente deluso. Non solo non ha trovato i bambini segregati, ma ha scoperto che in quella pizzeria non c'è neanche una cantina. Viene arrestato dalla polizia, che ovviamente lo interroga per capire che cosa diavolo stia succedendo. E questa è la storia incredibile che lui racconta. Qualche mese prima, degli hacker sono entrati nel server delle email di Hillary Clinton. Hanno rubato 30.000 email dal server e le hanno pubblicate in un forum di cui il nostro Edgar fa parte. All'interno del forum, la gente comincia a leggere le email e a notare che alcune parole si ripetono. Tra queste parole che si ripetono ci sono queste due. Cheese, pizza, la passione di Hillary Clinton per la pizza al formaggio. Si mettono in testa all'interno di quel forum che tra queste parole che si ripetono ci sia un codice nascosto. E perché cosa mai può stare cheese, pizza, se non per CP, ovvero Children Pornography, pedopornografia? Perché la pizza, però, si chiedono all'interno di quel forum, chi è il principale finanziatore del Partito Democratico americano che vive a Washington DC come Hillary Clinton e che ha a che fare con la pizza, lo sfortunato proprietario del Comet Pizza Ping Pong. La storia che nasce da quel forum e che porta il nostro Edgar a fare 600 chilometri in macchina ed entrare armato in quella pizzeria è la seguente. I principali esponenti del Partito Democratico americano, Bill Clinton, ovviamente Hillary Clinton, Bill Gates, Barack Obama, Oprah Winfrey, la sera, la notte, si trovano all'interno del Comet Pizza Ping Pong per scambiarsi dei bambini con i quali soddisfare le proprie più bieche pulsioni sessuali, ma soprattutto per estrarne il sangue e con un rito satanico farne il siero per la vita eterna. Meraviglioso. Quanto incredibilmente diverse sono le due storie che vi ho raccontato, quella di Darwin e quella di Edgar. Per nulla. Le due cose che vi ho raccontato sono identiche. Edgar si è messo di fronte alla complessità delle email di Hillary Clinton, la sua mente ha selezionato alcuni tratti distintivi in base alla sua curiosità, li ha ordinati in un pensiero, una narrazione che ha prodotto del senso e il cui scopo era la predittività. Darwin, con questo strumento, ha prodotto una narrazione che non solo si è dimostrata predittiva del mondo, Darwin ha visto la farfalla senza vederla, ma che ha creato una narrazione talmente potente che ha scalfito la narrazione precedente riguardo alla domanda più importante che noi ci siamo mai fatti, e cioè da dove diavolo veniamo. Prima di Darwin la risposta era da Dio, dal soffio divino. Da dopo Darwin la risposta è dalle scimmie. Contemporaneamente, Edgar, con lo stesso strumento, ha prodotto una narrazione che si è dimostrata incapace di prevedere la realtà e che l'ha anche fatto finire in galera e gli ha fatto rischiare di uccidere degli innocenti. La domanda che io stasera vi faccio è perché? Io stasera ci voglio provare a dare una risposta a questa domanda. Se voleste partecipare a questa mia ricerca, questo è il mio sito internet, è lostorytelling.it slash pizza. Ho fatto una pagina in cui potete scrivermi solo di questa cosa qui. Andiamo avanti perché io ci voglio provare. Torniamo a Darwin. Darwin ha creato la sua narrazione del mondo mescolando due ingredienti. Il primo, la sua esperienza diretta del mondo. Lui era in Madagascar, ha visto il fiore. Il secondo ingrediente sono i suoi studi di biologia. Sulla scienza, io devo fare una brevissima digressione, restate con me. La scienza è un modo che noi abbiamo di creare delle narrazioni sul mondo che ha una particolarità, e cioè un sistema di controllo dell'adeguatezza delle storie e delle narrazioni che crea rispetto alla realtà. Darwin, con questi ingredienti, ha prodotto una narrazione funzionante. Contemporaneamente, Edgar, all'interno del forum della pizza, ha creato un assemblato di storie fatte da altre persone che partecipavano a quel forum. Ha prodotto una specie di Frankenstein narrativo che si è dimostrato inadeguato a descrivere la realtà. E qui una domanda dovrebbe nascervi spontanea, ma non se ne è accorto. E qui vi devo dire una cosa che non avete voglia di sentire, ma ve la dico lo stesso. Ve lo dico prima nel modo più complicato, e poi ve la spiego in un modo più semplice. Per il nostro cervello non c'è differenza tra ciò che è vero e ciò che è verosimile, ciò che sembra vero. Per la cosa che vi ho spiegato all'inizio, la materia prima di cui è fatta la nostra esperienza del mondo è di fatto una storia. E noi, il nostro cervello, non distingue tra una storia che è vera e una storia che è falsa se questa è ben costruita e socialmente condivisa. La verità è un effetto del senso delle nostre storie. E qui arriviamo ad un'altra cosa che non avete voglia di sentire e che vi racconto lo stesso. Quando noi troviamo una storia che è ben raccontata e socialmente condivisa, tendiamo ad abbracciarla e a non lasciarla andare neanche quando questa si dimostra inadeguata a descrivere la realtà. Ed è esattamente quello che è successo con il forum della pizza. Voi pensereste che nel momento in cui Darwin, scusate, in cui Edgar viene arrestato ed escono le sue interviste in cui lui dice ragazzi, non c'era la cantina, non c'erano i bambini, all'interno del forum la gente si guarda e si dica ragazzi, abbiamo fatto una cazzata, chiudiamo il forum. Ovviamente questo non è successo da una costola di quel forum, è nata la più grande teoria cospirazionista oggi esistente al mondo che peraltro ha inglobato il povero Edgar che di colpo è diventato un informatore dell'FBI ma questa è un'altra storia e da questa teoria cospirazionista è uscito lui, ve lo ricordate lui, Jake Angeli, il principale agitatore delle proteste del Campidoglio dopo la sconfitta di Trump alle elezioni americane. Se non vi fosse arrivato con la potenza che questa cosa ha lasciate che ve lo ripeto in un'altra maniera. Il più clamoroso attentato nella più grande democrazia alla più grande democrazia del mondo fortunatamente mancato è stato protratto da un gruppo di persone convinte che Obama di notte andasse a fare riti satanici nella cantina inesistente di una pizzeria dove si gioca a ping pong. Due cose vorrei che vi portaste a casa da questo TED. La prima è di non sottovalutare mai una storia. Per quanto buffo o strampalata vi sembri non sottovalutate mai una storia. La seconda cosa che vi vorrei che vi portaste a casa è la seguente noi abbiamo un problema con le nostre storie. Non con tutte le nostre storie ma con alcune delle nostre storie abbiamo un problema e questo problema sarà il problema principale secondo me che dovremmo affrontare nei prossimi venti o trent'anni. Quando dico principale non intendo che è il più grande intendo che è quello che dobbiamo affrontare per primo perché come vi ho spiegato le cose che vi ho spiegato all'inizio saltano tutte nel momento in cui le nostre storie non sono adeguate a descrivere la realtà salta il tessuto sociale salta la nostra capacità predittiva salta la nostra capacità di inquadrare i problemi e alla fine di tutto questo salta la nostra capacità di adattarci all'ambiente e quindi di evolverci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.